vi abbiamo presentato nei precedenti video la costruzione di questa villa in legno che è ad alta efficienza energetica rientrando in classe a4 siamo stati qui quando si realizzavano le fondazioni con cordoli di protezione abbiamo filmato il montaggio del prefabbricato il legno lam abbiamo visto la costruzione del tetto in legno lamellare ed oggi passiamo dal cantiere a mostrarvi la casa conclusa negli interni mentre scorriamo alcuni video alcune immagini ascolteremo lucia la padrona di casa che ha deciso di realizzare per la sua famiglia una casa in legno sicura moderna e dotata di vari comfort vivere in una casa in legno per noi significa essere più sostenibili casa per me è un nido il posto dove torno la sera dopo il lavoro dove mi posso rilassare dove posso essere me stessa dove ho tutta la mia famiglia e non a caso ho scelto di fare casa nel luogo in cui sono nata sono andata via ma sono tornato ho scelto lo stesso posto dove sono sempre stata proprio perché per me casa e questo è il nido in cui tornare abbiamo scelto lam perché la conoscevamo diciamo che ha un buon prodotto è un'azienda locale quindi anche per la vicinanza per la comodità in caso in caso di problemi e perché conoscendoli sapevamo che ci potevano comunque ascoltare in tutte le nostre esigenze l'esperienza con lam è stata positiva perché siamo stati ben seguiti in tutte le fasi dalla progettazione fino poi all'esecuzione in cantiere e diciamo che ci hanno sempre risposto ogni volta che li abbiamo cercati è capitato che per urgenze li abbiamo chiamati anche di sabato e sono stati sempre reperibili sempre disponibili insomma ad ascoltare e a risolvere i problemi del momento abbiamo scelto lam perché per noi significa essere più sostenibili e avere anche risparmio energetico in ottica di miglioramento ambientale non Grazie a tutti.